In un'intervista a TVLine, il cast di Westworld ha lanciato delle interessanti anticipazioni su quello che vedremo nella prossima stagione. Durante l'appuntamento hanno partecipato Aaron Paul, la star di Breaking Bad che sarà presente nelle nuove puntate della serie, Evan Rachel Wood, Tandy Newton e i due produttori esecutivi Lisa Joy e Jonathan Nolan. Prima di scoprire nuovi dettagli su Westworld, ricordate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche, per non perdervi nessuna notizia di EveryEye.it. Il cast e i producer hanno rivelato che il tema principale della prossima stagione sarà il destino, al contrario dei precedenti episodi che erano legati ad argomenti come i ricordi e la memoria di sé. Come già anticipato dal recente trailer di Westworld 3 mostrato al Comic Con, il setting non sarà più confinato all'interno del solo parco ed esplorerà il futuristico mondo esterno, mostrato finora principalmente attraverso i flashback di Robert Ford e di William. Il personaggio di Caleb, interpretato da Aaron Paul, sarà fondamentale per far conoscere agli altri protagonisti della serie la società statunitense. Sarà un operaio di umili origini, lontanissimo da ricchi magnati che si potevano permettere di soggiornare nel selvaggio West creato da Delos Inc. Evan Rachel Wood e Tandy Newton invece hanno spiegato che la nuova stagione potrebbe apparire diversa, essendo ambientata in una metropoli futuristica, ma i fan potranno ritrovare i temi e i dialoghi che hanno reso famosa la serie tv prodotta da HBO. Anche l'iconico vestito blu di Dolores cambierà e l'interprete dell'androide ha spiegato che le prossime puntate saranno molto amare per la protagonista di Westworld. Per concludere è doveroso citare il producer Jonathan Nolan, il quale ha dichiarato che la serie prenderà una piega inedita e meno oscura. In attesa di nuovi aggiornamenti vi chiediamo cosa vi aspettate dalla terza stagione di Westworld? Dite la vostra come di consueto nella sezione dedicata ai commenti.